Il Consiglio Comunale di Enna ha accolto la proposta del Sindaco Maurizio Di Pietro votando all'unanimità la cittadinanza onoraria alla professoressa Maria Letizia Colaianni, nipote dello statista ennese Napoleone Colaianni. L'evento ufficiale è durante la seduta del civico consesso di martedì scorso. Maria Letizia Colaianni nasce ad Agrigento l'8 settembre 1936, laureata in lingue e letteratura inglese presso l'Istituto Orientale di Napoli, ha insegnato inglese e successivamente è stata preside negli istituti secondari superiori statali. Dal 1985 al 1990 è stata componente del Consiglio Provinciale di Palermo, attivista e dirigente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di cui è stata vicepresidente del Comitato Provinciale di Palermo, coordinatrice regionale per gli interventi nelle scuole, membro del Coordinamento Nazionale delle Donne dell'Ampia e membro del Consiglio Nazionale recentemente insignita, tra l'altro, dell'onore di presidente onorario nazionale dell'Associazione Partigiani. La professoressa Colaianni ci ha stimolato nell'organizzazione del centenario della scomparsa dell'onorevole Colaianni, ha affermato Di Pietro. La sua vita stessa è un percorso valoriale che va da suo nonno, Napoleone Colaianni, a noi. Siamo orgogliosi di averla come cittadina.